devo dire che ho ricevuto un momento, quindi sono contenta di essere di nuovo qui e grazie per avermi invitato di nuovo e che va prima abbiamo, facciamo un applauso a Cristina Bucino con noi Rossori ora Cristina deve venire con noi per il tale della torta perché oggi noi facciamo 40 anni di mazieta importantissima